Anche perché noi pensiamo che l'integrazione avvenga attraverso il lavoro e attraverso la prossimità di avere una casa. La comunità marocchina delle tante comunità straniere che sono in Italia è una di quelle più integrate e sicuramente molto più vicina all'Italia culturalmente. Ci sono molte cose in comune della nostra storia. E i nostri paesi sono tutti e due sullo stesso mare sul Mediterraneo. Allora io viaggio in molti paesi perché sono componente dell'assemblea della Nato. E devo dire che il Marocco dei paesi del Maghreb è sicuramente il paese che dal punto di vista economico e sociale della sicurezza è più evoluto. Il Maghreb è un paese che sul piano dell'economia cresce. E credo che questo sia stato possibile perché Ray Mohamed VI ha avuto la capacità di guardare lontano e anche di fare delle importanti riforme. il Marocco dei paesi del Marocco dei paesi del Marocco dei paesi del Marocco dei paesi del Marocco. Allora penso intanto che il Sahara marocchino è senza ombra di dubbio proprietà del Marocco. Non c'è una controverso internazionale all'ONU però è una cosa mai superata dalla realtà dei fatti. E' un'unica verità di discussione a cui ha fatto una risposta. L' freshere è vero. Il Marocco ha fatto grandi investimenti in infrastrutture. Il Marocco ha fatto grandi investimento in infrastrutture. Sì, il Maghreb è una spazia di un'infrastruttura. L'infrastruttura di un'infrastruttura. L'infrastruttura di un'infrastruttura. In i 2024 dell'energia, in la Euro. In le sector di l'attropria. In i flew ! C'è stato una capacità, il Marocco ha investito tantissimo e ha fatto crescere questa regione del sud, che oggi può essere anche un luogo interessante anche per investimenti da parte di paesi stranieri. Il Marocco ha un ruolo molto importante nella sicurezza internazionale. Io sono sicuro che il Marocco è un paese che sta dando una mano di più a l'Europa nel contrasto al terrorismo. Il Marocco è un paese che ha fatto la sicurezza internazionale e la guerra del terrorismo. Se non ci fosse stata l'attività diplomatica del Marocco oggi non saremmo in grado di dare una mano alla Libia. L'attività del Marocco è un esempio per le altre comunità. La comunità del Marocco è un esempio per le altre comunità, per l'attività. Speriamo di vederci presto a Meknes. Ciao a Meknes!